Anche se in realtà non è molto a dire, forse è la quarta serata stasera del Festival di San Rimo in cui i vari 25 cantanti interpreteranno una cover di qualche canzone italiana credito degli anni 70, 80, 90 scelta da loro e se riesco forse metto, diciamo, qualche pezzo mio, non cambia l'anteprima nel clima, se mi sono deciso, la pezzo, la classifica parziale ieri sono arrivati alle 35 posizioni, ma vediamo, non so se ce la faccio col tempo poi pensavo al 23esimo episodio di Sertati Once Again che se tutto va bene deve caricare più tardi di qualche ora poi vedrete, ovviamente non svelo mai nulla, vedrete di che cosa si tratta dico solo che si tratta del mio nuovo motivo, il terzo creato, la parola del maestro poi vedrete anche un altro pezzo per il momento non utile di avere altre cose, ma sto pensando, come sempre se mi venisse, ma scrive in descrizione grazie a tutti grazie a tutti